La termotecnica di Nicolangelo Bitella è esperienza e professionalità al vostro servizio. È il rivenditore autorizzato Vailant, Beretta, Bosch, Riello e tante altre marche di prestigio. Lo trovate a Ginosa, in via Giusti 9. Il Circo Larci, il ponte, nell'attesa della festa, aspettandomi una chicchia, ha organizzato con la collaborazione del patrocino del Comune di Ginosa la prima festa di quartiere nella zona Poggio, una manifestazione che ha visto coinvolti tutti i commercianti della zona e non solo, anche piccoli artigiani e ginossini che hanno creato per l'occasione orecchini, collane, quadri e tanto altro. Una festa molto attiva, sentita particolarmente dai cittadini che, con entusiasmo e un pizzico di curiosità, hanno invaso le vie della zona. Siamo alla festa aspettando una chicchia a Rione Poggio, è un'iniziativa messa in piedi dal Circolo Arce e dai commercianti del Rione, volta ad animare questa parte della città di Ginosa. Dobbiamo dire che c'è stata una partecipazione molto attiva, la si vede dall'allestimento che c'è, la gente già comincia ad arrivare, siamo veramente soddisfatti di questa iniziativa. Se va bene, sicuramente ripeteremo questa esperienza anche negli altri quartieri. Senti, mamma mia, puoi salutare il tuo TV che ti sta facendo le riprese? Ciao! Ciao! Sono bellata! E' vero che sono bellata! Buongiorno a televisione, vi ho rito? Non lo so, credo che dobbiamo chiedere... Penso di sì, penso di sì. ...a la mia amministra. E domandaglielo, che io mi sono ammazzata. Bene, a tutti quanti i qui presenti auguriamo una piacevolissima serata. Grazie. Niente, io volevo... ha detto tutto chiaro, Chiara è il nostro presidente. Noi abbiamo fatto la bottega del Monachicchio, dove abbiamo fatto un laboratorio di pasta di sale. Infatti c'è una bancarella con i nostri oggettini fatti con la pasta di sale. E in più abbiamo fatto proprio il Monachicchio con l'argilla, terracotta, dove c'è stato il maestro Vincenzo che ci ha seguito. E anche lì sono esposti i nostri oggettini. Chi vuole acquistarli, chi stanno di là. E tu la pappo se non c'è mai... I mili e i trassanti che non pagano E tanto il tempo passa e passerai Come sai tu, i mili e i co E intanto il tempo passa e tu non passi mai Nascondo questa stupida levia La termotecnica di Nicolangelo Bitella è esperienza e professionalità al vostro servizio. E il rivenditore autorizzato Vailant, Beretta, Bosch, Riello e tante altre marche di prestigio. Lo trovate a Ginosa, in via Giusti 9.